Mauro Fortini, Daniele Stellati, un'ora di confronto in comune per il mercatino settimanale attualmente allo Staino. Le problematiche sono sempre le solite, se ne parla ormai da un anno, abbiamo sentito anche dei toni alti, molto alti in alcuni frangenti. Vi chiedo allora, in concreto, cosa è venuto fuori da questo incontro e se c'è la reale possibilità di trasferirsi a Beve in centro? Il Consiglio Comunale, gli esponenti del Consiglio Comunale che sono venuti, ci hanno prospettato un'ipotesi di spostamento del centro concreta a partire al massimo nel mese di novembre in comitanza con l'arrivo dello spettacolo viaggianti che interesserebbe l'area centrale di Via Colombo, Larco Trencle e Piazza Europa. Questo per noi è un'ipotesi accettabile, nonostante quella della passeggiata rimane l'opzione principale che abbiamo portato alla loro attenzione. Però ecco, pur che sia un'ipotesi, diciamo, suffragata da una tesi dimostrabile e effettivamente attuabile al contrario, insomma, dei vari ipotesi che si sono rivelate non fattibili, è una soluzione, insomma, che ci porterebbe a soddisfazione sostanzialmente rispetto alla posizione che occupa ora il mercato. Mauro Fortini, però ci sono delle problematiche, immagino io, legate al piano sicurezza ed altri aspetti. C'è tempo per organizzarsi? C'è tempo per organizzarsi, ci stiamo già lavorando, abbiamo già avanzato delle proposte, sia del grado di planimetria che a livello di consigli per cercare di fare al meglio il piano di sicurezza. Noi siamo felicissimi di poter provare a sperimentare il centro e vogliamo solamente iniziare prima possibile. Le tempistiche, nel senso, questa è una proposta, come si procederà? Ci saranno ulteriori riunioni? Avrete dei confronti magari anche con gli stessi operatori? Credo che si dovrà lavorare solamente a livello tecnico per limare l'imperfezione della planimetria e per sistemare tutti i dettagli tecnici, ma la strada ormai è tracciata. Quindi da 15 novembre, ipotizziamo, c'è la possibilità concreta di questo spostamento che sarà temporaneo come vi è stato prospettato. È uno spostamento sperimentale, anche perché il centro è comunque un'area della città di pregio e dovremmo un attimo vedere che tipo di impatto potrà esserci con il mercato. Noi siamo consapevoli che per noi operatori sarà comunque più impegnativo che lavorare su un'area come Stato, per quello che riguarda le responsabilità, ma siamo orgogliosi di provarci, siamo convinti che sarà la soluzione migliore perché proveremo a ridare un po' di slancio anche al commercio di questa.